Siamo da poco tornati dal Mondiale di Oakland, adesso siamo qui alla base della Federazione Vela a Cagliari e quindi stiamo facendo un confronto su quello che sono state le criticità e invece gli spunti positivi di una trasferta lunga, un mondiale impegnativo come quello di Oakland, per capire un pochettino quelle sono state le problematiche e gli spunti che ci serviranno da qui a Genova dove andremo a cercare la qualifica come Italia. Qui a Cagliari siamo fortunati perché possiamo uscire sia la mattina che il pomeriggio e quindi possiamo decidere un pochettino noi come gestire la giornata. Tendenzialmente la mattina utilizziamo la palestra e quindi c'è un'attività a secco, poi facciamo un briefing su quello che è l'attività in acqua, facciamo la nostra uscita e poi prima di cena ci rivediamo i video per analizzare la giornata. Poi abbiamo la cena e finiamo con un riposo per caricare batteria il giorno dopo. Al momento qui a Cagliari abbiamo due equipaggi, c'è Carlotto Mari e Matilda Di Stefano e Alexandra Saldere e Silvia Speri. Mentre Margherita Porro con Sveva Carraro sono già a Melbourne per fare allenamento prima del Mondiale. loro avevano già la barca che era presente lì sul campo, quindi sono fuori. Per quanto riguarda la nostra programmazione, intanto abbiamo avuto un buon miglioramento ad Auckland in quanto abbiamo avuto tre equipaggi in flotta gold a ridosso delle top 20. Questo ancora non ci basta per raggiungere la qualifica, però in chiave futura e soprattutto anche per il prossimo quadriennio, ho visto l'età molto giovane di ben due equipaggi su tre e il terzo con Matilda Di Stefano che è anche ora Juniores, mi fa ben sperare su quello che è il progetto 2024. Intanto adesso ci concentriamo su Genova che è il primo step, comunque rimane fondamentale come target e poi in futuro sicuramente penso che sarà una bella squadra. Allora qui usciti dal porto possiamo rimanere vicino a ridosso della sella per avere acqua piatta oppure allontanarci un pochettino, quindi andare più in mare aperto qualora avessimo bisogno di confrontarci con onda o con anche un condizioni di vento più variabile. Poi le uscite adesso sono più concentrate sulle manovre e tendenzialmente siamo dalle tre ore, tre ore e mezza in base a come è la condizione. Abbiamo anche svolto una doppia uscita durante la giornata proprio perché qui possiamo fare mattina e pomeriggio.